Ce l'ho anch'io la colonna sonora, ce l'ho io. Sì, poi domani questo materiale va vuoto alla Spezia, ho sentito, domani fa Torino la Spezia vuoto. Questo materiale. Il treno preziano è stata, con un'alta velocità preziano è stata, 96,4,5,3 Italia. Alcuni, sì, quelli più veloci saltano Firenze. Quelli un po' più veloci saltano Firenze, sì, quelli fast. Una volta erano Eurostale Italia via fast. Poi sono diventati Frecciarossa e Frecciarossa fast. Nell'ora 15.25, il modern studio pre-parchetta da 19.7, il moderno è fantastico. Il moderno è un ricordo, il cavallo, 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 il cavallo. Una volta in treno, una volta in auto a Bardonecchia. Un'altra volta in treno, la pista permanently fanno il cavallo, 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 il cavallo. Grazie. Sì, sì, è vero quello, al binario 3. Sì, è vero. 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 Ah, il nostro mano ha preso il... ...perciato la piazza, la piazza azienda. Cos'è questo? C'è un solo. E' tra le lettere 470. C'è ancora quelle cose del Frecciargento lì. Frecciabianca? Frecciabianca, sì. Sì, Frecciabianca c'è ancora, ce n'è uno. Frecciabianca... Sì. A volte lo fanno con le TR485 e Frecciargento anche, quelle del servizio lì. Frecciabianca, come i godi a bianca. Venezia. Frecciabianca... Venezia-Santa Oncia, che arriva al binario 17. Attenzione! Sì, sì. Lo senti proprio che... Sì, sì, sì. Allontanarsi dalla binario 17. Come ribombarsi o qualcosa del genere. Sì. Ma perché è veramente enorme la stazione lì. No, sì. Non si capisce. Vero. 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 Sì. Buonasera, un po' pomeriggio. Cosa abbiamo fatto prima che avete ascoltato? Così non l'ho riconosciuto. Avevamo fatto il gatto e la volpe di Bennato. Di Bennato. Vero. 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 No, non c'è un video. È una cittura di Torchién. È un buonrimisio. È un buoncolino. Passi a parte poi. Vero. Pescatori dev'è. Vero. Palpacco. Lauriano. Ah, sì. Quello tipo... Molti alla casa. Mm... Lauriano. All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Voglio gli occhi grandi da bambino, voglio gli occhi grandi con natura, voglio gli occhi in un'avventura. Voglio gli occhi grandi da bambino, voglio gli occhi grandi. No ti aggiungo gli occhi grandi d'acqua. La 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 la. E a memoria è già il dolore, è già il rimpianto di un aprile, non giocato al doppio di un aprile. Si era assorbito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Grazie! Bravissimi! Che pagina è? Che pagina è questa? Amnesty Il logo è questo qua, The Good Time Makers The Good Time Makers Dove siete? Va bene Torino Quanti quanti? The Good Makers The Good Time Makers The Good Time Makers Si, The Good Time Makers No, non mi stanno andando The Good Time Makers La testa SON HONто Sono di Torino? SON DI TORINO Si, hanno detto che son di Torino Si, hanno detto che sono di Torino Corso regionale, ha detto, il treno regionale, carrozza, la carrozza è dalla 4 o alla 6 la carrozza è dalla 1 alla 2 e testa a treni la carrozza è dalla 3 alla 5 e la 3 e poi che ti faccio un annuncio e adesso ti puoi registrare l'annuncio e poi consentire The Good Time Makers e al massimo un attimo che passo te lo cerco The Good Time Makers siamo nelle colline ti faccio un annuncio se mi legge un salito e poi ne te lo mando facciamo un annuncio breve breve e non credo diciamo da 1000 mili di spretti e poi si guarda non prende questo lo senti a Milano il treno regionale treno regionale treno nord per domodosso in partenza dal Milano Ferva a Roffiera Milano Casorate Sempione Callarate Sesto Calente Aruna Stresa Ferva a Campallazza Roffiera Milano Quando leggo i cartelli? Quando leggo i cartelli io leggo l'orino, allora io a volte leggo i cartelli delle stazioni. Quando leggo i cartelli? Quando leggo i cartelli delle stazioni. Questo è il Po, il Po di Chivasso. Quante campate? Tre campate credo. Non c'è, c'è poco. Il muro. Il ferro è quello sul canale Cavour. C'è poco acqua? C'è più acqua adesso. C'è più acqua adesso. C'è più acqua, ha sbagliato a me. Prima c'è meno. Ce n'è, ce n'è. Ce n'è adesso. Proprio d'acqua. Prima era proprio in secca. Prima era proprio in secca. Prima è proprio in secca. C'è più in secca. C'è più in secca. Proprio d'acqua. C'è più in distanza. Ma quindi aspetta. Proprio arriviamo sotto il postino, arriviamo su un canale. Proprio magari vanno arrivando in secca. Siamo arrivando prima. Sì. Siamo arrivando prima. Proprio. Proprio arrivando prima oppure in terza. Proprio non in terza. Proprio. 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 Penso che lo prendino sull'uno a Chivasso arrivando dall'asti. Quindi arriva in primo. Adessi per foccia. Sì. Perché mi sembra che... Si. Mi sembra che... Mi sembra che... Anche gli asti Chivasso quando c'erano partivano dal primo. Da Chivasso. O dal primo o dal tronco. Per asti partivano dal tronco. Ah, dal tronco. Qual è? The good? The good video makers. Video? Sì. Esatto. The good time makers. Provate. Su questi? Sì. Il treno intercity Daniele Tartaglia proveniente da... Il treno alta velocità Frecciarossa. Il treno alta velocità Frecciarossa. Il 45. Il tren Italia. Per Roma Termini. Nelle ore 14.50. Per Roma Termini. E in partenza dal binario 10. Fermata. Torino Porto Susa. Milano Centrale. Cologna Centrale. Sì. La business class è in testa al tren. Su questo treno si effettua il servizio di gestione. Doppio marzo Torino. Eh? Si trovano ieri. Il treno intercity Daniele. Cosa? Ho fatto uno spettacchio a doppio marzo Torino. Ah. Il treno intercity Daniele. 7.79-65 In treniitalia. Per 환 kilometer centrale in partenza somm смогario. Formula. La prima Dogba centra è nellaumeria. Ifirma A Torino Lingotto. tasti allessansi e fermando questo pascio. Il treno. Mi piace anche un Buon��iderio cenoi. Questa band. keh beginiche! Ah si? cosa ha combinato abbiamo fatto bene a prendere due carrozze separate ma se lo caccia via e poi viene da piena basta che non venga qua